E' un pazzo saluto a tutti ragazzi sono Pazzis e qui vicino a me c'è mio fratello Pazzovino Bella a tutti Benvenuti in una nuova sfida da fratelli figurine panini edition Ti avendo inventato? No Oggi faremo Uendus Inden Tu vuoi vendere da Uendus Inden? Uendus E quindi ragazzi Uendus Per infegarmi le regole voglio consigliarvi l'app OneFootball per notizie come questa qui Vedete qui in donna a noi Qui in donna a noi Vi ci accoppiamo mi vedete? Vi ci accoppiamo Vabbè Trovate qua sotto il link in descrizione di questa app per scaricarla Così per rimanere aggiornati sul mondo del calcio Sulle notizie Sulle partite in diretta Su tutto Ragazzi lasciate le like e iscrivetevi al canale perché gradisco Come nello scosto video che se mi ricordo lascio qua sopra nelle schede Avremo 30 pacchetti ragazzi 15 a testa Asta che di oggi ragazzi Calciatori panini Porte chiuse Perché questa partita si gioca a porte chiuse Che peccato Guardate la vedete sul canale Io sono l'inde iniziamo con uno spacchettamento Napoli Bella questa di Genova Bologna Non hai vinto Tescai La cittadella E? Cavolo sembrava l'inde Stava già per fare un gol Pacchetto inutilissimo ragazzi Ok andiamo pazzo Invece cosa ha trovato Sassuolo Quindi ragazzi I cattoli speciali sono queste qua con il bordo così C'è andato Cagliari Cagliari Non hai vinto San Antonio Nauri Oh pacchetti Nauri E? Adalanta Un'altra volta Ragazzi basta far uscire adalanta Che poi sembra l'inden E poi io credo che sto per vince E invece poi esce adalanta E non vengo più E che cavolo Antidua che te dai 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 Voglio vincere Roma Crotone Brescia Non ho vinto 3b E navoli E poi ci sono io e inter Quando facciamo questi gol Quando li facciamo Ok Sassuolo Ok Non hai vinto Ma vuole fare del gol facile Niente Nazio E Bologna Ragazzi ma dove la gibellina Dove Dove A paura e due Paura e due E la beach Senza Serebbe Non hai vinto Tutti sei b sto pacchetto Ancora sei b Brescia Ma Che sono ste carte Mi piacciono Venendo Se carte Così finiamo La serie Ancora sei b Ah beh Ok Non hai vinto Cagliari Oh Il dio Le caccia Mosca Delli Pazzesco 1 a 0 Il pacchetto Vino Manu autogol Come gol Oltre danno Anche la beffa 2 1 Tante Pazzovino Ma che cavolo Dai faccio Scivenire Faccio Scivenire Dai Ti Vulman So Parchetto Dove L'intero No Oh Quanti davoli Sono sceso Sto pacchetti Niente 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 Grazie Pazzolino Grazie A questo Do Gole Ebbene 1 a 1 1 a 1 Belo Bello Bello Sto Figurino Sto Facchetto In Grazie Si Permetite Pall Fottissimo Palli Spall E Andi Azzurino 8 Cine Quello De L'idea Grazie Grazie Che Posso Sì Io Certo Tu Facci Vedate Buone Basta Basta Buono Ragazzi 2 a 1 Vantaggio La U E No Perché Mi Piace Not Sto Per Pazzolino Cavolo Vabbè 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 Navoli Sant'Ande Mattinez 2 a 2 2 a 2 Ma che scopi In più Amato Non hai vinto La squadra Niente E Ma che Bacchetti So Te a 2 Pazzolino Brescia Ella Radu Fazio E Ma che Ma che Ma che Tutti Giovedini Sto Bacchetto E Quando Sai Quanto 2 Ma No 3 2 Se Vinci Quanto 2 Vabbè 5 2 5 2 Pazzolino Ma che Cavolo Oh Il Pazzolino Buona Già 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 Guarda Se Esce Un'altra Sozzarella E Se Pescaria Ascoli Sembrava You Andus L Asperona Non hai Vinto Vabbè Napoli Benevento E Alla Sperona Ragazzi Ma Quanti Figurine Napoli Sono Uscite Sottile Sottile Vinto Lazio Pure Lazio I E Abberto De Farma Ragazzi Storamente Molto Arrabbiato Perché sto Vedendo 5 2 Gioco Di Medici Credo Stamore Fanno Faccio Scever Inter Fina Zora Pensiamo Che Fatto L'abracadabra Ragazzi Ragazzi Questo Non so più che dire Una torta The ball Faraoni Atalanta Faccio Ciro No No Atalanta Ragazzi Sette L'indico Nel gioco Forse Non hai vinto E adesso Metà Della juve E 1 33 Ragazzi Perché metà Di una speciale Elas E Atalanta Perché Amere Figurine Vangono A metà Pagliacci Milan Atalanta Non si 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 Sena Niente Sembra L'unico Invece No Roma No Perché Se Atalanta C'è Perché Perché L'Atalanta Mi avete sempre Colpi Ci Hai vinto Cagliari No Ma che Sembra L'unico No Mi sembra Uno scudetto Che pizze Come la vuoi Ma perché Non so I pacchetti Oggi Ma che è Successo E certo Se ricendo 73 Non hai Vinto Grazie Al primo Napoli Adalanta Oggi Asce Sono Adalanta Napoli Bologna Adalanta E Do Fai O Se Da Bello Abbiamo Dato Un nuovo Meme Godo Comun Gufo Perché Gufi Si Girano Così Udinese Parma Parma 8 A te Prozza Vino Vabbè Io non so più che dire Non so più che dire Io non so più che dire Ma che ci fai In gioco Si si In gioco Sembra tu Possibile Tutte le figure del mondo Escono sempre quelle che Stanno da te Mi so stancato Di parte con te Eh Guarda Non esce niente Non esce niente E questo Devo dire Sti cavoli Che belle Quindi Oddio 8 godi Linden Fantastico Questo pacchetto Ragazzi Quanto godi Che si aggiungono Hai 3 6 7 Io so 8 Ma tanto Guarda qua Qua ci riserva Un inter Che legumeo Dell'inde Con un pacchetto Di pazzi Specialissimo Vediamo Ok Ok Ma così che sono contento Ok Non hai vinto Ok Va bene Sì 9 a 7 Ma che cavolo Ma che cavolo è questo No Dopo in Napoli Due colletti dell'inde E andiamo 9 a 9 Pazzolino Perché ragazza Speciale 9 a 9 Pazzolino Il mio Pareggio Non ho manco Un centesimo Di secondo Dai Ma benissimo Anche quella Emozione Ma benissimo Grazie Grazie Sanpedonia Frosinone Dimmi che non hai vinto Meno male Meno male Ok 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 Ragazzi 10 a 9 Pazzolino Adesso Ma ancora È tutto Da decidere Credo Nelle carte Faccio Sceglie Uno Dell'inde Dai 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 Sceglie 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 Dab con gli arti Kadab Dab 10 a 10 E' un'altra volta in pareggio ragazzi Un'altra volta in pareggio Ma che partita stiamo facendo Ma che partita Ma che partita Ma che partita Ma che partita Pazzolino 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 Lazio Ok Non hai vinto Zagnolo Forza Zagnolo Perché non è mai Lindo E' un'ultimo pacchetto Ragazzi Prendiamo E' un'altra volta in pareggio E' un'altra volta in pareggio E' un'altra volta in pareggio E' unico E' unico E' unico Cagliari Napoli 11 a 10 Mamma mia Mamma mia Ospina Sassuolo Empoli Non hai vinto Bologna Linde sta vincendo 11 a 10 Ultimi due pacchetti Calma Calma 11 a 10 Ragazzi Tutti in questi due ultimi pacchetti Niente Niente Che ansia Niente Non hai vinto Milan Lazio E niente 11 a 10 Ci serve un miracolo per il pazzolino Ultime figurine Alessandro Madri Palazzo Atalanta Poteva essere l'Inter Non hai vinto ragazzi Quindi oggi solo non hai vinto Che pacchetti sfortunati eh Pazzolino Stai in ansia Bologna Stai in Tana E Milan Il vincitore di oggi ragazzi È l'Inter Per 11 A 10 A 10 A 10 Pop Il debito d'Italia Lo vince l'Inter Ragazzi Adesso Vi conteremo le carte Allora Vediamo prima La Juventus Allora 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Andiamo L'Inter 1 2 4 Perché scudetto 5 6 7 8 Perché vinto 9 10 11 I campioni dell'Italia Siamo noi Siamo noi Pop 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 Però se ci penso Il suonino Se io non trovo L'hai vinto Avevo perso Invece l'ho trovato Che spacchettamento C'è tanti like Se volete altri spacchettamenti Questo è il nostro pronostico Per noi ha vinto l'Inter Perché le carte Hanno dovuto così Bella partita Dai Tavazzo Viste Pazzolino Il King dei Pazzini E King dei Pazzi So io Ragazzi Al prossimo Al prossimo Video Bella No non te lo faccio Fai Ah ho fatto No Non lo devi fare No Ok No Ok Ciao 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 Ciao